La morte non si era mai presentata, ha voluto venirlo a prendere a casa, in mezzo ai suoi trofei, ma non è riuscita a meno mare il suo destino. Nivola è caduto per una malattia contratta sulle piste. I suoi figli, vite anzitempo recise, lo aspettavano a questo traguardo e lui, eccolo, in uniforme da campione. La moglie non lo vedrà più uscire in colume da questo circuito che si è chiuso. Viloresi, Ascari, Fancio, Masetti, Guerra, Castagneto hanno disinestato la marcia. Spingono a braccia l'ultima auto di Tassi. Era il superstite della generazione eroica, dei campari, brilliteri, barzi, maserati, materassi, borzacchini, tutti stroncati da gloriosi disastri. Lui ha prolungato la corsa e la sua pace si prega come per una vittoria. ha drizzato il volante verso le luminose piste dell'aldilà.